Augusto Ferrari, presidente del consultorio Pro Famiglia d'Imperia, allora il consultorio raddoppia, c'è la notizia dell'apertura sabato di una nuova sede di staccata ad Albenga, è così? Sì, sabato prossimo alle ore 17 Monsignor Vesco inaugurerà ad Albenga in Piazza del Popolo la sede staccata del consultorio Pro Famiglia d'Imperia che diventa a tutti gli effetti il consultorio diocesano. All'interno del consultorio si può trovare assistenza alle famiglie, ai singoli, alle coppie e operano dei volontari che sono dei professionisti, ci sono psicologi, consulenti familiari, legali, medici e oltre all'assistenza ai singoli, alle famiglie Noi proponiamo anche attività per associazioni, gruppi, parrocchie, scuole e durante l'anno organizziamo anche dei corsi, corsi preparto, corsi di massaggio neonatale, corsi sulla menopausa, corsi per la genitorialità responsabile. Il nostro consultorio è aperto tutti i giorni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16 alle 18.00 per chi volesse prendere appuntamento per il consultorio di Albenga il numero di telefono a cui bisogna rivolgersi è il 339 85 40 477. Ringrazio tutti quelli che hanno collaborato per la riuscita di questa nuova inaugurazione e tutti i volontari che quotidianamente si adoperano per il buon esito dell'attività del consultorio familiare.